In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, le vetrine dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, URP del Consiglio regionale, ospitano una collezione di shopper dedicate al padre e maestro dei giovani. In tela di cotone le borse sono realizzate a mano e propongono tre percorsi ispirati alla vita del santo. Sulla social tv del Consiglio è possibile vedere il filmato storico di una processione del 1929 in suo onore.